Il pallone a cercare Chiesa sulla sinistra, se lo sposta sul destro, il tiro giro! E' un gol straordinario! Quello che sblocca il punteggio da parte di Federico Chiesa! L'avevamo detto poco fa, era stato il migliore in campo fino a questo momento e va a legittimare questa prestazione con uno dei gol più belli della sua fin cui giovane carriera. Una rete meravigliosa a girare col destro sul secondo palo, è rimasto immobile come una statua di cera mirante. Non ha potuto fare nulla, riguardiamo qua, bellissima l'esecuzione di Federico Chiesa.